Allora, io ho fatto adesso il video perché ho festeggiato, ero molto contento, sorpreso, io devo dirvi la verità sorpresissimo, non pensavo che questa squadra vincesse l'Europeo, ma la cosa che conta, io lo dico adesso, la cosa che conta molte volte è la capacità nel voler raggiungere un risultato, perché qui si è vista. Allora, se una persona vi dice qual è la parte, diciamo, migliore di un team, cos'è che dentro un team occorre per magari fare una vittoria importante? Cos'è? La caparbietà. E la caparbietà si è vista questa sera da questa squadra, perché è una squadra che, io vorrei metterci modo sul fuoco che qualunque altra squadra si trovasse nello stesso punto che si trovava magari in quel momento l'Italia, sotto al primo set, recuperato il primo set è sotto anche al terzo, è sotto poi all'inizio del quarto set. Vorrei mettere, io ci metto la mano sul fuoco che qualunque altra squadra non ce l'avrebbe fatta, non ce l'avrebbe fatta a recuperare il quarto set, non ce l'avrebbe fatta a recuperarlo e a vincere un team break partito malissimo, un team break partito stramale, con un secco 3-0 che comunque poteva destabilizzare ovviamente una squadra di ragazzi, di ragazzini, di giovani, perché questi sono giovanissimi. Cioè partiamo al presupposto che dal 95, 96, 97 fino al 2001, tutti comunque di quella fascia lì, quindi sono giovanissimi e sono inesperti, a parte Giannelli e Balaso, gli altri sono tutti inesperti. Eppure questi ragazzi hanno cacciato il carattere ed anche un'altra cosa che ben voi sapete, hanno recuperato per ben due volte, il team break lo hanno recuperato e hanno vinto un europeo alla facciaccia di tutti che davano l'Italia per spacciato, che davano l'Italia che neanche in semifinale arrivasse, che neanche una medaglia prendeva, alla facciaccia di tutti. Abbiamo vinto un europeo femminile e adesso abbiamo vinto un europeo maschile. Innanzitutto vorrei complimentarmi con tutta la squadra perché al di fuori, nessuno al di fuori da questi complimenti, tutti che se li sono meritati. Micheletto in Brims ha fatto una partitona pazzesca, servizi bomba incredibili, cioè metteva la palla ovunque lui voleva, la palla la stabilizzava lì. Il gioco a muro è uscito benissimo, specialmente il team break, stupendo. Ma tutti, cioè non è che vogliamo trovare una persona, un giocatore, sono stati tutti fantastici, dal primo all'ultimo. Poi, anche una nota di merito la dobbiamo dare a Fefele e Giorgi, che fa, non gliela diamo una nota di merito. Cioè, non vogliamo parlare di un allenatore che in primis è stato un ex giocatore che ha vinto tre mondiali. Ragazzi, tre mondiali ha vinto Fefele e Giorgi col Dream Team italiano, che io me lo ricordo bene che ero ragazzino e lo vedevo, e mi ricordo bene, ha vinto tre ori mondiali ed è riuscito a portare questa squadra di ragazzini a vincere un europeo. I bookmakers davano l'Italia per spacciata, nessuno mai si immaginava che l'Italia riuscisse a vincere un europeo. E invece, ripeto, la facciaccia loro l'abbiamo vinto. Merito ai giocatori, grandissimi, sono stati giocatori che, nonostante l'età, hanno cacciato la mentalità e soprattutto la caparbia, e soprattutto anche hanno saputo attendere il momento giusto, perché non è facile andare sotto e recuperare in quel modo, non è facile. hanno saputo attendere il momento giusto per picchiare e per far male, e lo hanno fatto. Io sono felicissimo, sono stato a vedere la partita qui al pub, non ci potevo credere, ho detto, quest'anno abbiamo veramente fatto un tritume, al livello nazionale abbiamo vinto quasi tutto, tutto abbiamo vinto, abbiamo vinto tutto, cioè abbiamo realmente fatto un tritume, sono felicissimo. Che devo dire, nulla, cioè la partita è stata fantastica, lottata fino all'ultimo, perché comunque si sapeva, abbiamo vinto contro una Serbia che era strafavorita, abbiamo vinto anche contro la Zolenia, che era forse poco poco più favorita a noi, quindi meglio di così non poteva andare. Abbiamo vinto una medaglia d'oro dopo 15 anni, dopo 15 anni di astinenza da questo medagliere d'oro, siamo riusciti comunque a portarne uno a casa, è un buon passo, ovviamente questa è una squadra giovanissima, anche lo stesso Romano che è entrato per poco, ha fatto vedere grandissime cose, è una squadra giovanissima, che comunque deve ancora crescere, ma queste sono le vittorie più importanti, perché queste vittorie danno morale, e soprattutto danno fiducia, credenzialità anche ai mezzi che questa squadra ha, che sono tanti mezzi. Molti dicevano che la squadra femminile non sarebbe riuscita ad arrivare neanche in semifinale, per dire, e ha vinto un europeo. Stessa cosa per noi, ci avevamo spacciati già i quarti, abbiamo vinto un altro europeo, quindi ragazzi, io vi saluto così, alla facciaccia di tutti che ci avevamo spacciati, abbiamo vinto, a livello femminile e maschile, due medaglie d'oro, e vorrei aggiungere, tra parentesi, strameritate, alla facciaccia, facciaccia l'oro. Ciao ragazzi, Forza Italia, Forza Italia.